L'ex senatore ed ex sindaco di Padova Paolo Giaretta, esponente della PD, è intervenuto sulla polemica che da giorni infiamma la politica nazionale. Il Consiglio d'Europa, l'organismo nato dopo la Seconda Guerra Mondiale per promuovere la democrazia e i diritti nel continente, ha infatti spiazzato l'Italia con la pubblicazione di un duro rapporto stilato dalla Commissione contro il razzismo e l'intolleranza che attacca la polizia, accusata di compiere profilazione razziale. Per Giaretta, che per anni è stato segretario della delegazione italiana nell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, si tratta di un giudizio superficiale. È un documento di una quarantina di pagine e ci sono solo due righe in cui si ipotizza dei comportamenti, diciamo, razzisti, di profilazione razziale da parte della polizia e delle forze dell'ordine. Perché ritengo che sia sbagliato? Perché naturalmente possiamo anche considerare che ci possono essere dei singoli casi di comportamenti scorretti, questo succede in tutti gli ambienti, ma certamente non si può generalizzare. Del resto la polizia interviene nei casi di segnalazione di reati ed è chiaro che ci possono essere dei problemi, diciamo, di interventi necessariamente autoritari. Il documento sostiene che questo avvenga soprattutto nei confronti dei Rom. Si cita il caso dei campi Rom, ma io vorrei che i commissari che hanno redatto questo documento riflettessero cosa succede a una squadra di poliziotti che entra in un campo Rom, magari perché ha ricevuto l'ordine di sgombero dalle autorità. E cosa si trova di fronte? Non solo gli insulti, ovviamente, si trova di fronte l'omertà, ovviamente, si trova di fronte a volte le aggressioni, l'impedire che le forze dell'ordine possano eseguire gli ordini ricevuti. Quindi è sbagliato considerare questi comportamenti come comportamenti di tipo razzista. Le affermazioni del Consiglio d'Europa hanno suscitato anche lo stupore del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.